Volevo dire una cosa rispetto alla motivazione. I am a teacher, quindi I have poco tempo, time for the study, lo dico in italiano. Volevo dire soltanto che la motivazione riguarda tutti gli strumenti e tutti noi. Anche io in passato, adesso no, però quando ero studente del conservatorio ho avuto qualche momento un po' di difficoltà perché non sapevo se la musica era quello che volevo. Però poi mi sono chiesto cosa sarebbe stata la mia vita senza la musica e allora ho capito che la musica era una cosa essenziale. Quindi anche il discorso del mio lavoro, non ho poco tempo per studiare, però quando uno studio soltanto per un giorno, uno studio come vorrei studiare, mi sembra che mi manchi qualcosa di essenziale, come un po' di cibo, l'acqua, l'aria. Quindi è importante fare musica per se stessi e per il bello che ci dà la musica, senza chiedersi cosa faremo, dove andremo, a dove ci porterà. Anzi, sono sicuro che se si fa con passione, se si studia con passione, poi la musica ci porta sempre da qualche parte meraviglioso. Quindi è stato detto che si è stato fatto questo momento di confusione, non lo so, non lo so, e poi in questo momento è stato pensato che ci stessi pensato cosa sia come senza musica. E' stato pensato che musica era un po' di pare, in me, in me. E' stato detto che non si stessi pensato, se non è proprio quello che si è quello che si è, Grazie a tutti. 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 Do you have time for a question? Do you have time? Yeah. Can I ask in front of you? Do you have time for a question? 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 Do you have time for a question?